Cinque donne, rapporti sessuali in canonica con uomini transessuali, avrebbe confessato tutti i carabinieri l'ex parroco di San Lazzaro, Don Andrea Contin, che i militari che lo interrogavano avrebbe negato rapporti violenti. Su di lui pendono indagine per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Festini, qui avrebbe partecipato anche il parroco di Carbonara, Don Roberto Cavazzana. La famiglia di quest'ultimo, che gestisce un locale sui colli, preferisce non parlare. A Rovolon i parrocchiani lo difendono e sono in corso accertamenti sulla gestione di Casetta Michelino, il centro di urno per anziani di Ponte Vigo d'Arzere, di cui Don Andrea Contin era presidente. Intanto da Brasile ed Ecuador, dove si trova in visita pastorale, affida una lunga lettera ai fedeli le prime parole sulla vicenda al Vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Vorrei chiedere perdono, questi fatti gettano un'ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra chiesa, scrive e continua, mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo schermo a livello internazionale. Io mi vergogno perché abbiamo guadagnato solamente la commiserazione di molti, l'ironia e la beffa di molti altri. Non tutti stanno capendo che è una ferita dolorosa per la nostra chiesa e per la nostra società padovana. La lettera domenica sarà inviata a tutti i fedeli attraverso i bollettini parrocchiali. Per i due parroci, intanto, sono annunciati provvedimenti disciplinari.